Il fratello è nella merda. È a terra, perde sangue e tu devi raggiungerlo. Ma ci sono i semafori, giusto? In tutta la città, semafori rossi. Allora passi con il rosso. Ma sì, certo, metti fuori il faro, azioni la sirena, passi con il rosso, ma sei ancora lento. Sei bloccato dal traffico, sei fermo. La soluzione è soltanto una, Freddy. Muoversi a zigzag, a zigzag. Devi sterzare quando vedi un semaforo rosso. Non stare sempre sulla Broadway per andare a Broadway. Ma questo che c'entra con quello che dicevamo detto? Come c'entra, Freddy? Non è detto che l'avversario deve essere sempre attaccato frontalmente. Se ti butti a testa bassa contro di loro, rischi solo di rimetterci le corna. Ok, ok. È la loro vita che difendono, le loro famiglie. No. Devi aggirarli. Se vuoi vincere.